Siamo nuovamente in diretta, continuano ad arrivare tanti video, tanti messaggi, tante fotografie, allora io vorrei vedere assieme a voi questo, perché insomma bisogna affrontare anche con un po' di sorriso questo momento, è difficile, continuo a dirlo, continuo a ripeterlo, è anche l'occasione per starsene a casa e approfittare di fare magari quello che ci piace, a volte fare anche un po' i pazzarelli come questa nostra telespettatrice, vediamo assieme il video. Ciao a tutti, io sono Cocci Cocinella, anche io sono a casa perché è più o meglio, oggi io ho tanto voglia di fare allenamento, volete fare un po' di allenamento con me? Mi raccomando, a tempo di musica e imitate i miei gesti, aspetta aspetta che tacco a musica. Pronti? Io vi do il tempo, allora, prima apriamo gli occhi e li chiudiamo, cambio, adesso uno e poi l'altro, adesso seri e poi felici, cavolo che belle guance toniche che ho, ci vediamo a presto, ciao amici! Insomma abbiamo visto, ci si può allenare anche senza far troppa fatica, come ci ha suggerito questa nostra telespettatrice, un bel messaggio che viene lanciato soprattutto ai bambini, insomma divertiamoci, prendiamo con il sorriso questo momento così particolare, i bambini sono protagonisti, li abbiamo visti e continueremo a vederli anche durante proprio questa edizione straordinaria delle tante tantissime foto coloratissime che ci state inviando e bambini sempre con il sorriso ma sempre molto ligi e attenti a rispettare questa regola principale in questo momento, restare a casa, perché? Perché andrà tutto bene, lo dicono loro, dobbiamo essere fiduciosi di questo. Certo è che il trasporto pubblico, abbiamo visto prima Padova che è stato cambiato l'orario di tanti mezzi pubblici, tante corse sono state ridotte e nel Bassanese la situazione com'è, vediamo assieme. Noi abbiamo visto che lei è appena arrivato, da dove è arrivato? Buongiorno, siamo arrivati da Padova, abbiamo raccolto solo due passeggeri per strada, non partiti da Padova, partiti dopo, uno è salito qua qualche chilometro appena più indietro, non c'è nessuno per strada, la via di comunicazione fra Padova e Bassano che come sappiamo è sempre molto trafficata, è praticamente vuota, solo alcuni camion e basta. Senta una cosa, ma quali sono le misure che voi dovete adottare come autisti? Beh allora, nel caso abbiamo passeggeri a bordo, tenere la mascherina indossata perché è una buona precauzione. Abbiamo anche installato recentemente dalla nostra azienda un dispositivo con del gel disinfettante per noi autisti qui e poi il corridoio è sbarrato, quindi i passeggeri salgono solamente dalla porta posteriore. Senta, e come corse è cambiato l'orario? Sono state soppresse alcune corse o rimane invariato? No, nella nostra azienda Bus Italia di Padova le corse sono state ridotte moltissimo, è stato tagliato quasi tutto e addirittura, notizia di questa mattina, dai prossimi giorni ci saranno ulteriori tagli, soprattutto anche in città a Padova dove non circola ormai più nessuno e quindi è stata fatta una pesante riduzione, del resto non serve, è un costo per niente. Senta, e lei nello svolgimento delle sue attività ha paura rispetto a prima? Ma sinceramente io non ho molta paura, sono più preoccupato, sapete di cosa, di quelli che saranno i risvolti economici successivi a questa tragedia. E sull'operato di chi si trova a lavorare tutti i giorni, quotidianamente con persone fragili, quindi stiamo parlando degli ospedali ma stiamo parlando anche delle case di riposo, degli operatori sociosanitari e quant'altro, è intervenuta anche l'assessore regionale alla sanità. Manuela Lanzarine. Nel caso specifico di Bassano della Madonnina, gli tamponi sono stati fatti, i tamponi a tutti all'interno, è stata chiusa in via precauzionale la casa, la struttura, sono stati fatti i tamponi a tutti i pazienti, a tutti i degenti, ma anche a tutto il personale e oggi il risultato è che abbiamo 20 operatori positivi e 5 degenti. Abbiamo proprio già fin da subito quindi disposto delle linee guida che abbiamo inviato, stiamo inviando in questi minuti a tutte le strutture per anziani, proprio dicendo anche il percorso corretto, quindi l'isolamento di questi nuclei, evitare che ci sia commissione appunto tra personale che può essere appunto infetto e degenti e quindi tutte le precauzioni e poi le precauzioni legate appunto a quelle che sono le normali igiene, i DPI per il personale, insomma cercando quindi di contenere il più possibile all'interno di questi luoghi che sappiamo essere luoghi molto fragili, insomma quello che può essere la propagarsi del virus. Lei ha parlato oggi proprio di quello che è il personale osso sanitario comunque all'interno delle case di riposo, quindi con una certa problematica. Sì, noi stiamo assistendo oggi purtroppo e il grido d'allarme mi arriva dalle strutture, dalle associazioni URIPA, UNEBA che dicono allora le strutture sanitarie stanno assumendo e quindi stanno a fare lo sgorimento delle graduatorie, infermieri e ossa, in molti casi hanno infermieri e ossa che lavoravano dentro le strutture per anziani, le case di riposo, poi ci sono il personale che è positivo e quindi deve fare l'isolamento e quindi si rischiano di avere delle strutture un po' al collasso. In questo caso quindi abbiamo già un po' attivato la filiera, quindi cercando di recuperare personale in pensione oppure anche con la cooperazione sociale cercando di mettere in moto e di recuperare più personale, più operatori possibili, oppure anche tramite il volontariato, insomma Croce Rossa, Croce Verde, si sono resi disponibili eventualmente ad arrivare, ad avvenire in soccorso in queste situazioni. Il piano strategico della regione Veneto prevede un ospedale Covid, coronavirus, per ogni provincia, per ogni azienda sanitaria. Per quanto riguarda il Vicentino, quindi sia per l'USL Pedemontana che per l'USL Berica, è stato individuato l'ospedale di Sant'Orso proprio perché ha reparto di malattia infettiva, terapia intensiva, semi-intensiva, quindi è attrezzato per questo. Però io vorrei tranquillizzare i cittadini di quel territorio. L'ospedale oggi funziona a pieno regime, insomma, preisto con le diminuzioni che abbiamo previsto per andare incontro a questo periodo molto difficile. E quindi questo piano scatterebbe solo nel caso in cui tutti i posti letto che noi abbiamo messo a disposizione e abbiamo ricavato in tutti gli ospedali andassero in saturazione. Quindi c'è massima attenzione da parte della regione Veneto. Poco fa avevo letto un messaggio da parte di un nostro telespettatore che arrivava dalla zona delle Terme del Padovano e chiedeva come mai non fosse ancora iniziata questa pulizia straordinaria e eccezionale delle strade. Tra l'altro è appena arrivato un comunicato proprio dal comune di Montegrotto Terme che dice appunto che da giovedì parte tutta la disinfestazione della sanificazione di tutte le strade del comune, strade, piazze, marciapiedi, dove sono presenti abitazioni e servizi primari a quanto ha annunciato il sindaco Riccardo Mortandello. Un intervento deciso dopo una circolare che è stata emessa dalla regione che sarà effettuato giovedì, venerdì e sabato dalle 6 alle 18 e la ditta che si occuperà del lavoro provvederà alla sanificazione attraverso la nebulizzazione di un disinfettante a base di ipoclorito o di sodio in concentrazione tale da non risultare dannoso né per le persone né ovviamente inquinante per l'ambiente e l'agricoltura se no non avrebbe proprio senso il servizio che verrà svolto con una doppia modalità lungo strade e marciapiedi mediante idoneo mezzo lotato di barra lavastrade e da operatore a terra per piazze e portici compreso l'arredo urbano e le zone più difficilmente accessibili. Di conseguenza ci sarà un macchinario e ci sarà il personale che manualmente svolgerà questa operazione di sanificazione e di pulizia straordinaria quindi questo è un primo passo che viene fatto nel comune di Montegrotto Terme e quindi si spera che poi a catena anche tutti quanti gli altri comuni visto che tra l'altro si tratta di una misura richiesta a gran voce proprio dalla regione Veneto quindi tutti quanti i comuni poi si adegueranno e seguiranno questa direttiva che arriva proprio dalla regione. Oggi il commissario dell'Ulse 7 Pedemontana Bortolo Simoni ha incontrato la stampa per dare un po' il punto della situazione proprio per quanto riguarda Ulse 7 con i suoi due distretti San Bassiano e Sant'Orso. Partirei intanto dal numero dei positivi che adesso cresce come ci aspettiamo ormai sono 198 i positivi nell'Ulse 7 a questa mattina di cui 119 sono nel distretto 1 e 73 nel distretto 2 6 non abbiamo ancora la residenza certa perché si tratta di persone che magari sono domiciliate 23 comuni nel distretto 1 e 24 comuni interessati ormai nel distretto 2 quindi questi numeri ci dicono che il virus pian pianino si sta diffondendo e si sta estendendo anche territorialmente mentre prima avevamo all'inizio dei focolai localizzati ora registriamo casi di positività dappertutto. 59 di questi 198 sono dipendenti dell'Ulse 25 nel distretto 1, 28 nel distretto 2 e 6 i lavoratori nostri che risiedono fuori US prevalentemente Vicenza quindi vedete che 6, 12, 18 poco meno del 30% è rappresentato dagli operatori mentre il 70% circa è rappresentato da pazienti o altre persone. insomma i ricoverati facciamo il bollettino quotidiano e ogni minuto cambia la situazione i ricoverati sono l'ordine di grandezza 19 erano ieri sera a Bassano di cui uno in rianimazione stamattina purtroppo c'è stata un'altra conversione in rianimazione di uno dei nostri pazienti qui di Bassano i ricoverati a Sant'Orso sono 19 pure là quindi una ventina per parte attenzione che stiamo occupando due aree in ogni ospedale la prima area che avevamo individuato e anche una seconda area per consentire diciamo la corretta gestione di questi pazienti e poi abbiamo il focolaio dell'ospedale di Asiago dove c'erano ieri sera 16 pazienti ricoverati il numero dei deceduti purtroppo è in aggiornamento anche quello siamo arrivati al sesto deceduto questa mattina un maschio del 1934 che è deceduto all'ospedale di Sant'Orso ieri sera era deceduta una donna qui a Bassano del 1922 e i precedenti 4 li conoscete a iniziare dal numero 1 che era quel signore di Castelfranco che era stato portato in rianimazione a Bassano quindi siamo a 6 deceduti tutti grandi anziani quindi oltre i 75-80 e tutti con tante patologie concomitanti addirittura qualche uno oncologico per cui come dire per ora stiamo riscontrando qua decessi che sono più con coronavirus che non da coronavirus cioè dove il coronavirus è una con causa importante di insufficienza respiratoria nella fase terminale ma su pazienti che avevano già problematiche importanti per quanto riguarda altre questioni è partito ieri il piano straordinario di controllo dell'ISPISAL il servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro l'ISPISAL hanno creato credo 2, 3, 4 squadre per ogni distretto fatte ognuna da due ispettori di igiene e stanno uscendo per controllare a tappeto le attività private a cominciare dalle più grandi questo sul programma che ha dato il Presidente Zaia ad ogni azienda di effettuare controlli negli ambienti di lavoro perché i dipendenti abbiano rispettate le misure di sicurezza quali dispositivi di protezione individuale la disponibilità di disinfettanti eccetera e soprattutto la regolazione dei flussi di entrata e uscita e i contatti all'interno delle fabbriche perché questo sta diventando il mondo del lavoro ecco ogni sera noi faremo un report ieri primo giorno sono state verificate sette realtà aziende importanti del Bassanese e anche dell'Alto Vicentino e per circa 2.000 dipendenti quindi un importante lavoro sono ispezioni, attenzione, leggere e mirate esclusivamente alla verifica del contenimento del coronavirus quindi non sono ispezioni degli ambienti di lavoro mirate ad altro che non a sollecitare i datori di lavoro piuttosto a chiudere le attività qualora non siano in grado di garantire la sicurezza di chi opera nelle fabbriche poi abbiamo altri fronti sono quelli del ospedale di Sant'Orso che è stato classificato ieri come ospedale AB per l'intera provincia di Vicenza cioè ospedale Covid dedicato per la terza fase se mai arriverà speriamo tutti di no attenzione che non è una cosa che si vede dalla sera alla mattina ma sarà una cosa progressiva quindi stiamo iniziando a ridurre gli accessi stiamo iniziando a individuare tutti gli aspetti tecnici che riguardano gli spazi, le stanze i letti di intensiva, di semi-intensiva i letti per pazienti Covid positivi dovranno arrivare dalla Regione tutte le dotazioni previste per portare a 67 i letti di intensiva e a 20 quelli di semi-intensiva intendo dire letti monitor per il monitoraggio dei parametri fisiologici e intendo dire ventilatori caschici, PAP e quant'altro serva per curare questi pazienti quindi arriverà dalla Regione una cospicua dotazione di materiale mano a mano che arriverà la installeremo e progressivamente l'ospedale di Sant'Orso spero mai ma andrà ad assumere quella configurazione che è prevista dal piano di emergenza regionale Una domanda io volevo farle ci sono delle proiezioni per quanto riguarda Veneto 1, Veneto 2 poi magari ci dirà come sono suddivise queste due zone cosa corrisponde all'1 cosa corrisponde al 2 e ci sono delle proiezioni visto l'andamento Io vedo quello che emana la Regione quindi so che loro si basano su degli algoritmi che finora sono stati molto precisi algoritmi che riguardano soprattutto la curva di crescita del fabbisogno di letti di intensiva del numero dei decessi cioè ogni fenomeno legato all'epidemia è monitorato ieri si diceva però è presto per dirlo che la curva forse sta leggermente spianando però l'acme dell'epidemia viene da tutti dai più con gli strumenti che abbiamo collocato a cavallo del passaggio marzo-aprile quindi a cavallo del mese e poi quando saremo all'acme ci sarà tutta la discesa come abbiamo fatto la salita ci sarà da fare anche la discesa dipende da quanto funzioneranno le misure di contenimento che sono in essere ormai da oggi siamo credo il sesto giorno quindi dobbiamo passare i 14 giorni di misure di contenimento per poter realmente capire l'efficacia misure di contenimento che sono quelle di educazione sanitaria e di comportamento individuale ma anche quelle restrittive di circolazione della popolazione perché il vero blocca virus è stare a casa che è un po' il motto che diciamo tutti ma effettivamente ridurre al minimo la circolazione delle persone che portano a volte inconsciamente in giro essendo magari positivi asintomatici il virus e lo trasmettono ad altre persone per quanto riguarda invece il controllo e i tamponi allora abbiamo un piano tamponi importante che è già iniziato di fatto la prima notizia che posso dirvi è che il nostro laboratorio è stato autorizzato da sabato a effettuare qui quindi qui a Sant'Orso ci stiamo attrezzando per fare noi gli esami di tamponi che finora mandavamo a Padova quindi per accelerare e per aumentare il numero adesso da oggi inizia il tamponamento diciamo l'esecuzione di tamponi su tutto il personale della sanità quindi a iniziare il personale ospedaliero dei distretti ma anche personale amministrativo di contatto secondo una gradazione diciamo di rischio tra virgolette chi è più a rischio prima e gli altri un po' dopo poi faremo i medici di famiglia pediatri di libera scelta guardia medica quindi tutta la parte sanitaria e poi entreremo nel mondo delle case di riposo siamo già entrati nelle case di riposo dove vi siano focolai dove vi siano case di riposo che non hanno ancora avuto nulla però è previsto in successione il tamponamento di tutti gli operatori per avere il quadro e per isolare da subito eventuali persone positive che siano venute a contatto fuori dall'ambiente di lavoro e magari portano il virus dentro le strutture per anziani che sono quelle più sensibili e più a rischio ecco il commissario dell'Ulset e Pedemontana Bortolo Simoni lo abbiamo appena sentito tra l'altro ha dato una risposta ai tanti messaggi che ci avete inviato che ci state inviando relative proprio al discorso degli operatori e delle persone che si trovano a lavorare all'interno soprattutto delle case di riposo quindi abbiamo sentito che anche in quelle dove non si sono verificate positività verranno ugualmente fatti tamponi e controlli ulteriori per essere sicuri al 100% che non ci siano contagio soprattutto sappiamo che il pericolo chiamiamolo così maggiore è quello del positivo asintomatico sono persone come noi che stanno benissimo però in realtà potrebbero essere positive senza saperlo e non si ammaleranno mai non avranno mai sintomi particolari però andranno a contagiare altre persone di conseguenza penso anche che davvero sia una nota positiva importante un respiro di sollievo per le persone che si trovano a lavorare all'interno delle case di riposo sapere che saranno in ogni caso controllate in tutto e per tutto grazie proprio ai tamponi che la regione e nello specifico l'Ul 7 farà affare a tutti quanti poi è arrivata una nota proprio pochissimo fa in redazione perché è giunta a Padova oggi pomeriggio e ci resterà fino al 19 quindi a giovedì prossimo al 19 marzo una delegazione della Croce Rossa cinese che è composta da nove esperti guidata dal vice presidente della Croce Rossa cinese con loro ci sono Amelia Marzal e Fabrizio Damiani che fanno parte del servizio internazionale della Croce Rossa italiana la delegazione ha svolto un primo incontro congiunto per cercare di capire come muoversi un incontro volutamente ristretto nel massimo rispetto delle disposizioni governative e la finalità del primo appuntamento è stata proprio quella di definire in maniera congiunta la scaletta degli incontri che si svolgeranno da qui a giovedì la delegazione lascerà Padova nella prima mattinata del 20 marzo per poi per poi recarsi a Pavia di conseguenza si sta cercando di capire anche grazie proprio agli esperti cinesi come muoversi per affrontare al meglio questa situazione io adesso vorrei mostrarvi un video che arriva dalla Germania ed è molto particolare vediamolo assieme carissimi amici italiani in questo momento difficile per tutti noi ma soprattutto per voi ci teniamo a farvi sapere che vi siamo molto vicini siamo stati molto colpiti e ci siamo particolarmente emozionati nel vedere le vostre reazioni all'isolamento mentre cantate dai balconi di casa abbiamo quindi deciso qui a Bamberg nostra città bavarese in questa via di unirci al vostro coro e di cantare per voi la canzone di libertà per eccellenza mi scusate bella ciao ci auguriamo tutti che questa canzone possa costituire l'inno di liberazione del virus un abbraccio ai vostri amici tedeschi grazie allora andiamo 1,2,3,3,3,3 La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato, e ho portato in basso. Apeggiando la mia, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.